Qua Spoleto, finalmente siamo arrivati, bellissima cittadina di Don Matteo, per ora non si vede, ok, siamo nella piazza, caserma, scalinata, eccola lì, col camion della nettezza urbana, bellissimo, eccoci. A presto, più tardi, ciao. Ora siamo a Gubbio, facciamo una ripresa da dove siamo, qua la piazza, piazza del cazzincu... la piazza di Gubbio. Così, adesso problema che non vedo una minchia, vedi qualcosa, non vedo niente, da sotto. Ok... Eh sì, bello vivere in vacanza. Sì, bello vivere in vacanza.